Questa mattina i militari della seconda sezione operativa Napoli del comando carabinieri antifalsificazione monetaria, coagliuvati nella fase esecutiva da quelli della prima sezione operativa Roma e della sezione criptovalute del medesimo comando specializzato, nonché da quelli dei comandi provinciali di Napoli e di Brescia, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari messe dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale procura.